Per il secondo anno siamo presenti alla SIA Hospitality Design di Rimini perché desideriamo far conoscere la nostra realtà imprenditoriale, una realtà che è specializzata nelle costruzioni in legno chiavi in mano, soprattutto nel settore recettivo e in questo caso proprio nel settore turistico alberghiero. Un esempio del nostro lavoro è rappresentato dal Vision Hotel, una realizzazione moderna, contemporanea che stiamo costruendo proprio in questo momento a Peschiera del Garda. Uno dei nostri punti di forza è dare soluzioni personalizzate al cliente, questo lo facciamo affiancando il progettista fin dalle fasi iniziali dello studio di fattibilità, cercando soluzioni che possano interpretare al meglio le esigenze dei clienti. Questo sempre garantendo costi certi e tempi di costruzione certi. Siamo di fatti un general contractor che non si limita di per sé a gestire i lavori dall'inizio alla fine con i nostri project manager, ma grazie alla nostra esperienza, grazie alla nostra preparazione prendiamo per mano il cliente e lo aiutiamo a realizzare un sogno. Grazie a tutti.